La Puglia è tra le prime cinque regioni in Europa per divario di genere, con uno scarto di ben 27 punti percentuali tra l'occupazione femminile e quella maschile. Sono alcuni dei dati Istat relativi al 2020 forniti dalla CGL in occasione dell'incontro donna e lavoro, donne sottopagate e penalizzate. Noi riscontriamo in questo momento una grande sofferenza nel mercato del lavoro e una grande disparità di genere, soprattutto per quanto attiene spesso l'utilizzo della manodopera femminile in contratti a tempo parziale, involontario, che comportano quindi anche una situazione reddituale e salariale differente, che va ad inserirsi in una situazione economica già di difficoltà per molte famiglie e molte donne del nostro territorio. In particolare la provincia di Taranto è quella che in questo momento ha il record negativo di divario tra uomo e donna. La pandemia ha aggravato la situazione. Le donne sono quelle che hanno pagato di più in termini di tempo dedicato alla cura. C'è un'altra questione sospesa, quella dei 305 OS precari delle province di Brindisi e Labatt, il cui contratto è scaduto il 31 gennaio e non è stato prorogato. La task force regionale per l'occupazione è stata convocata per il 17 febbraio prossimo e CGL ha annunciato un sit-in pacifico. Stiamo provando a costruire un minimo di linearità nella gestione di questo processo, un processo complicato che vede in campo tanti lavoratori che rivendicano giustamente il diritto a lavorare, soprattutto anche tanti giovani e tante donne, in una fase complessa come questa. Stiamo provando ad evitare che ci sia un conflitto tra lavoratori. Devo dire che dall'altra parte, intendo regione, le ASL invece stanno facendo tutto il possibile per complicare la vita dei lavoratori. Ho accettato volentieri l'invito della funzione pubblica CGL, della CGL Puglia, ad incontrare i rappresentanti dei lavoratori OS precari. Ma qual è la parte determinante che caratterizza l'avvio del tavolo di confronto? La volontà ferma di Regione Puglia di non lasciare indietro nessuno.